Il perdono è una cosa seria e soprattutto non è una passeggiata, come vorrebbero tante mielose e inutili testimonianze su come sarebbe bello perdonare. Il perdono è un percorso ascetico, difficile, che non potrebbe raggiungere la meta se non intervenisse la grazia di Dio. Chi spiega bene questo percorso è Gemma Calabresi, nella sua recente autobiografia intitolata La crepa e la luce. Questo è il suo libro, edito da Mondadori. Per i giovani che non hanno vissuto la stagione del terrorismo bisogna premettere alcune informazioni. Gemma è la vedova del commissario di polizia Luigi Calabresi, che venne assassinato a Milano da un commando di lotta continua il 17 maggio del 1972, esattamente mezzo secolo fa. Calabresi era accusato dalla stampa di sinistra di essere responsabile dell'omicidio di un anarchico, Giuseppe Pinelli, caduto da una finestra della questura di Milano dopo essere stato fermato in seguito alle indagini sulla strage di Piazza Fontana, avvenuta nel 1969. Secondo un metodo collaudato, la stampa rivoluzionaria lanciò una campagna d'odio ad personam, con articoli scritte sui muri, raccolte di firme, e tutto quanto potesse servire a infangare la figura di Calabresi. L'attentato, che venne compiuto sotto casa sua, colpendolo alle spalle come lui stesso aveva pronosticato, era quindi l'atto terminale di una campagna d'odio rivolta contro di lui. Calabresi lasciò vedova a Gemma con due bambini e un terzo in arrivo. Il libro in questione è la storia di questa giovane e della sua lotta per fare vincere dentro di sé il perdono contro l'odio che aveva ucciso suo marito. È un libro bello, affascinante, non è un libro di storia o di analisi politica, ma bensì è la testimonianza vissuta di una giovane di 25 anni che rimane vedova con tre bambini e impara a non odiare, ma a perdonare. Dietro le parole semplici e che scorrono veloci di questo libro c'è in realtà qualcosa di molto importante, qualcosa direi di metafisico. c'è nulla di meno della lotta fra il bene e il male, fra l'odio e l'amore, fra la vita e la morte. E questa lotta ha due facce, quella politica anzitutto che tutti abbiamo conosciuto e che ha visto per decenni una parte dell'Italia tentare prima di fare la rivoluzione e poi di infiltrare le stesse istituzioni che aveva combattuto con i propri uomini. Dall'altra parte del paese c'erano invece coloro che hanno difeso lo Stato aggredito da questa rivoluzione, mettendo, come ha fatto Calabresi, a disposizione la stessa propria vita. E questo, nonostante lo stesso Stato fosse sempre più compromesso e impregnato della stessa ideologia che aveva ucciso il commissario Calabresi. Ma questa lotta ha una dimensione molto più importante e profonda, se riusciamo a leggerla in profondità. È la lotta che avviene nel cuore della giovane protagonista. La lotta contro l'odio che aveva spinto qualcuno a uccidere il marito affinché trionfasse nel suo cuore il perdono, perché possa trionfare questo perdono anche nel paese e condurre alla pace, la stessa pace che lei racconta di avere ricevuto come un grande dono, frutto della grazia di Cristo. Il perdono non è cieco, non si rifiuta di guardare e giudicare i fatti, non ha paura, anzi ha bisogno della verità perché possa essere autentico. E da questo punto di vista rimane ancora molto da fare nel nostro paese. Ma senza il perdono la stessa verità dei fatti non riuscirebbe a portare la pace nei cuori. Possa allora questo libro aiutare tutti noi, compresi gli assassini di Calabresi e tutti quelli che hanno condiviso e sostenuto la campagna d'odio nei suoi confronti, possa questo libro aiutare a trovare la stessa pace interiore che si prova leggendo questa bellissima testimonianza. Buona settimana a tutti. Grazie a tutti.